Buongiorno Bersani, cominciamo leggeri, le va? Sì, andiamo. Sì, stasera c'è Sanremo, come sa Bersani, no? Allora io volevo chiederle, sono curioso, lei è un grande appassionato di musica rock, ecco se dovesse scegliere un brano tra i pezzi di Sanremo più famosi come Inno di Liberi Uguali, sceglierebbe L'italiano di Toto Cotugno o Vita Spericolata di Vasco Rossi? Ma Vita Spericolata, stava a San Diego, è questo, è questo. Senta, un'altra curiosità, siccome hanno messo a Sanremo un direttore artistico che è Baglioni, come lei sa, è una figura molto rassicurante, Baglioni secondo lei è il Paolo Gentiloni della musica leggera italiana? È bel colpo, però sotto sotto non so se la pensano allo stesso modo, il tratto è un po' quello. Mi auguro che Baglioni funzioni meglio, ecco.